Musica Nella rissa fra ubriachi spunta un coltello da cucina dei due contendenti, uno finisce in codice rosso all'ospedale e l'altro in manette. Nella serata di mercoledì i militari della compagnia di Seviso hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, un 55enne Brianzolo. L'uomo, ceribe, nulla facente e pluripregiudicato, intorno alle 21.30 avrebbe aggredito all'interno della propria abitazione un 47enne originario del Comasco, senza fissa dimora, disoccupato. Nel corso della serata i due, insieme a un comune amico 48enne, avevano abusato di bevande alcoliche durante un'accesa discussione per futili motivi con il senza tetto Comasco, il padrone di casa avrebbe impugnato un coltello da cucina lungo 34 centimetri con una lama di venti, accoltellando all'addome una ferita profonda 12 centimetri, larga 7, che ha provocato anche lesioni agli organi interni. Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno della stazione di Seviso, che hanno arrestato l'indagato, è giunto anche il personale del 118, che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso nell'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è ancora ricoverato, in prognosi riservata. Vestito di nero, passamontagna calato sul volto, si avvicina al portone della chiesa con un sacchetto della spesa. Prima il liquido è infiammabile, poi si allontana un istante, ritorna con l'accendino in mano e appicca il fuoco. Quando le fiamme avvolgono l'ingresso della chiesa di San Carlo, a Muggiò, nel Monzese, il piromane fugge. Immagini filmate dalle telecamere di videosorveglianza a giugno del 2021, ad agire un trentenne, nato a Caratebrianza, ma residente in paese, nello stesso quartiere di uno dei quattro edifici religiosi presi di mira in un escalation di roghi appiccati nella notte, a partire dalla scorsa estate. I carabinieri di Desio sono arrivati a lui dopo mesi di indagini. Visionando la ripresa hanno ipotizzato che il piromane potesse risiedere sul territorio e spostarsi con un'auto. Alla fine, dopo numerosi appostamenti, lo hanno preso con le mani nel sacco, mentre cercava di appiccare un altro incendio. L'uomo è stato denunciato, è indagato anche per lo sfregio al santuario della Madonna del Castagno, completamente imbrattato di bestemmie, e per aver bucato le gomme di una trentina di auto. Durante la perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di materiale incendiario. Riparavano le auto che poi avrebbero venduto. Peccato che l'officina a fianco della concessionaria fosse abusiva. I militari della Guardia di Finanza di Monza hanno scoperto e sequestrato una vera e propria autofficina sconosciuta al fisco, che si trovava in una proprietà privata nei pressi di un autosalone nella periferia di Seveso. Nel corso di un'ispezione, i finanzieri della compagnia locale hanno trovato sul posto non solo macchinari e attrezzature per le attività di riparazione e carrozzeria, ma anche ricambi e parti di veicoli smontati, utilizzati dal titolare della rivendita di auto per un primo restyling e per rendere dunque più appetibili le vetture usate da mettere in vendita. I militari hanno confiscato sia le attrezzature sia le parti di auto smontate presenti, segnalando per questo al titolare e alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per le conseguenti sanzioni amministrative. Sempre nella stessa officina abusiva i militari hanno trovato rifiuti speciali e hanno attivato la Polizia Provinciale per verificare ulteriori irregolarità. Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali, i finanzieri hanno accertato che il titolare dell'attività non aveva mai dichiarato nulla stimando i ricavi sottratti all'erario in circa 500.000 euro. Inoltre, gli ulteriori approfondimenti sul fronte del nucleo familiare dell'imprenditore hanno permesso ai militari di constatare che la moglie dello stesso aveva percepito circa 23.000 euro di reddito di cittadinanza. Non avendo la donna comunicato all'Inps la propria condizione reddituale nelle molte autovetture intestate al consorte, è stata denunciata la Procura della Repubblica di Monza. L'Inps provvederà alle verifiche per quanto riguarda l'erogazione del sussidio e il recupero di quanto percepito indebitamente. Derubati degli zaini con all'interno i computer e le cuffie vicino all'hotel dove alloggiavano a Milano, vittime due top manager di origine coreana in Italia per un viaggio ad affari che però non si sono persi d'animo. Tramite un'applicazione sono risaliti i dispositivi individuati a Monza e hanno allertato la polizia da cui l'intervento degli agenti che nel luogo indicato hanno trovato un ragazzo. Alla vista dell'auto ha cercato di fuggire ma è stato fermato. Dentro il suo zaino c'erano 4 pc e un paio di cuffie e airpad. Accompagnato in questura è stato denunciato per ricettazione nei suoi confronti e scattato anche il foglio di via. In serata una nuova segnalazione ha portato gli agenti sulle tracce del secondo ladro anche lui nordafricano. All'interno del borsello c'era quanto rubato ai manager insieme a tre cellulare di cui non è riuscito a fornire spiegazioni sulla provenienza. L'uomo, cittadino algerino con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio è stato accompagnato in questura e riconosciuto dalla vittima come l'autore del furto avvenuto poche ore prima. è stato denunciato solo tre giorni prima era stato scarcerato a Roma dove era detenuto per scontare una condanna sempre per lo stesso reato. Il 2022 ha segnato la ricorrenza del centenario della fondazione dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche a Monza per decenni un punto di riferimento fondamentale per l'arte italiana del primo dopoguerra. Una scuola innovativa per i tempi e modello per altri istituti successivi con gli studenti italiani ma anche stranieri che potevano ricevere una formazione a 360 gradi nei rispettivi settori diventando grandi professionisti nell'arte e nel design made in Italy. Dalla brusca chiusura nel 1943 Monza e la Brianza hanno sentito profondamente l'assenza di una scuola capace di garantire ai giovani una straordinaria crescita professionale come l'Isia un punto di incontro tra arte, artigianato e imprese. Del valore e significato di questa scuola per il capologo Brianzolo si è discusso alla tavola rotonda organizzata sabato 12 novembre presso la Sala degli Specchi della Regia di Monza con l'obiettivo di creare un primo momento di incontro di un team di ricercatori ed esperti da ora al lavoro per provare a pensare a un ritorno a Monza dell'Isia e progettare eventi lungo tutto il 2023 a partire dalla ricorrenza del centenario della prima biennale. Oltre all'assessore alla cultura di Monza Riana Bettin e il presidente del consorzio Parco di Monza Villa Reale Giuseppe Di Stefano hanno partecipato all'incontro anche i critici Antipansera e Alberto Crespi lo storico delle arti Rodolfo Profumo la direttrice dell'Isia di Faenza Maria Concetta Cossa e il docente e prorettore con delega alla cultura del Politecnico di Milano Federico Bucci un'occasione per riflettere sulla storia dell'Isia di Monza dal contesto della sua nascita all'evoluzione dei corsi ma anche sulla necessità e l'attualità di un modello didattico di alta formazione in campo artistico capace di dare nuova linfa alla ricerca e alla produzione nel tessuto economico italiano. Certamente l'Isia ha segnato uno degli apici della storia della città forse il più recente nasce in un contesto come Università di Arti Decorative in un contesto veramente fervido che vede nella ormai non più sabauda Villa Reale appunto il concentrarsi di grandissimi artisti e professionisti che arrivano dalle più grandi tradizioni europee come per esempio la Wienerwerkstätte con Ugo Zovetti ma così come tante personalità che sono passate anche dalla secessione monacense e quindi si ritrovano proprio a Monza per un motivo molto preciso ne parlavano oggi i nostri ospiti Monza si poneva e si pone come una sorta di cesura e di passaggio fra una brianza produttiva artigianale dei tempi lunghi e una metropoli in pieno sviluppo allora in particolare ma anche oggi che è Milano e quindi proprio a Monza si crea questo nucleo che poi ha segnato una stagione variegatissima e che ha fatto sì che le personalità che si sono succedute sia in veste di professori sia come studenti siano poi state storici protagonisti della stagione del design della pubblicità all'estero come in Italia e oggi questa memoria rimane molto forte e presente sia ovviamente nelle figure nelle persone che frequentano sia come professori che come studenti in anni Valentini che di questa tradizione è un po' se fatto interprete in particolare nella sua veste di Isa ma anche nella popolazione è un tema che è molto sentito perché è un tema di identità ma di identità in senso positivo perché certamente è un'identità che si affaccia sul futuro e non è un'identità che fa chiudere è un'identità che fa aprire come allora quella di oggi voleva essere un momento in cui riaccendere per così dire usando le parole di Giuseppe Di Stefano la miccia che forse si era un po' spenta ma non a livello pubblico perlomeno e innescare un processo in team per valutare quali opzioni abbiamo di fronte per riportare eventualmente un istituto di alta formazione in questo campo anche a Monza 25 novembre è la data che è stata scelta per celebrare la violenza contro le donne il prefetto Palmisani nell'ultima conferenza stampa proprio qui in comune ha detto che la violenza sulle donne leggeramente quale iniziative avete preso per contrastare questo fenomeno le iniziative che possiamo considerare che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa sono soprattutto di tipo educativo e culturale si diceva il passaggio è questo oltre ad intervenire effettivamente con le forze dell'ordine nel caso di denuncia eccetera eccetera quello che c'è da cambiare è proprio il pensiero nei confronti delle donne è quello che c'è un pensiero di prevenzione per cui educativo educare le nuove generazioni al rispetto per cui rispetto tra i generi sicuramente è un punto importante l'altra cosa l'aspetto culturale quello che noi proponiamo proprio in occasione della giornata del 25 novembre è una serie di attività di spettacoli di conferenze che ci permettano di discutere di questo tema e di sviscerarlo in modo tale che dal punto di vista culturale si riesca a trattare il tema con delle accezioni positive che possano portare alla denuncia delle violenze anche minime perché quando io lascio passare una violenza minima probabilmente poi questa violenza prima o poi esploderà anche in situazioni più gravi abbiamo deciso di organizzare un convegno insieme alla amministrazione comunale il questore Marco Dorisio e il sindaco sono stati convinti nel parlare del fenomeno della cosiddetta vittimizzazione secondaria quindi abbiamo pensato di creare un evento che si chiama io non ti giudico ti ascolto proprio per far capire che noi ci stiamo formando tutte le istituzioni ci stiamo formando per poter accogliere la donna per poterla ascoltare per non giudicarla e quindi cercare di far aumentare il numero di denunce proprio perché nel caso di violenza di genere noi sappiamo che il numero scuro è molto alto per cui ci sono molti casi di sommerso noi siamo un nodo come polizia di stato come colleghi dei carabinieri della rete Artemide il comune di Monza è capofila in Brianza della rete Artemide che è una rete di 55 comuni e vuol dire essere pronti ad avere una formazione comune ad avere un linguaggio comune e ad accogliere le donne vittime di violenza tutti quanti nello stesso modo a marzo del 2020 in piena pandemia noi ci siamo chiesti come potevamo aiutare le famiglie che stavano entrando in una realtà di nuova povertà e allora abbiamo messo in piedi una commissione del nostro Rotary utilizzando le competenze di tutti i nostri soci che sono competenze di varia natura e abbiamo impostato un progetto che si chiamava progetto Carebox e consisteva nella fornitura di derrate alimentari quindicinalmente a famiglie bisognose della provincia di Monza e del comune di Monza per una diciamo così per un valore commerciale di circa 40 euro dal luglio diciamo 2022 è partito il progetto Carebox nella sua edizione evoluta famiglie di famiglie e sostanzialmente abbiamo consegnato oltre 500 box 10 tonnellate di prodotti alimentari a un centinaio di famiglie e avviato progetti per aiutare diciamo 50 bambini e 40 famiglie la situazione in generale tipo economico e sociale non è che stia migliorando e quindi mai come in questo momento si rivela forse anche provvidenziale il fondo col trasto le nuove povertà che sostiene questo progetto noi siamo fondamentalmente il punto di arrivo cioè siamo coloro che vanno a recuperare questi bei cartoni che si chiamano Carebox presso un centro logistico di Piassono di cui si avvale i Rotary da lì i nostri volontari distribuiscono questi cartoni alle nostre sede periferiche che a loro volta attraverso la visita domiciliare presso le famiglie le consegne l'ambito di questo progetto il centro mamma marita ha avuto la possibilità di presentare sviluppare la propria specificità educativa infatti ci siamo impegnati nell'ambito del progetto a garantire esperienze di centro estivo nelle settimane luglio settembre per alcuni bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno partecipato alla nostra progettualità estate in città la partecipazione dei bambini al centro estivo è stata possibile solo grazie ai volontari che sono andati a prendere tutti i giorni a casa e li hanno riaccompagnati oltre a ciò i volontari partecipano anche come sostegno allo studio supporto nei laboratori e il MAPO si occupa anche di partecipare alle spese acquisto del materiale piuttosto che pullman per le gite per le uscite a Villa Zoia di Concorezzo è tornato il tradizionale appuntamento dell'assegnazione della gugia d'ora la benemerenza civica con cui l'amministrazione comunale premi annualmente persone o enti che si sono distinti per la loro attività sul territorio una celebrazione arrivata alla sua ventitresma edizione è sempre molto sentita dalla comunità come momento per ringraziare chi dedica una parte della propria vita al bene della città tra i premiati con la gugia d'ora di quest'anno Elio Pozzi fondatore dell'associazione volontari di Concorezzo e da sempre partecipa al mondo dell'associazionismo locale il centro di formazione professionale Marconi da dieci anni attivo per creare un ponte tra giovani e mondo del lavoro il maestro Luca Scacabarozzi che ha mandato un videomessaggio dedicato a tutta la cittadinanza visto un contemporaneo impegno in concerto la serata è stata anche l'occasione per riconoscere altri premi rivolti a personaggi noti a Concorezzo per il lavoro svolto sul territorio il presidente del coordinamento associazioni sportive Fabio Calloni ha premiato Pietro Gervasoni storico segretario e vicepresidente della pallavolo Concorezzo consegnata anche la targa di negozio storico a due attività arrivate al proprio cinquantesimo anniversario l'agribrianza e l'alevati SRL con i rispettivi rappresentanti che hanno ricevuto il riconoscimento con grande emozione l'amministrazione comunale ha voluto celebrare anche i 50 anni di attività della sezione concorezzese dell'Avis oltre a aver consegnato un riconoscimento a 5 medici di base oggi in pensione dopo una lunga carriera a disposizione dei cittadini infine la commovente premiazione alla memoria di Pier Giorgio Bormioli medico e assessore ai servizi sociali nella giunta Borgo Novo scomparso nel 2015 le ragioni fondamentali sono state quelle di valorizzare l'impegno del volontariato sul territorio e quindi abbiamo individuato quei cittadini che da anni si impegnano sul sociale e nello sport poi abbiamo voluto lavorare e riconoscere l'impegno della formazione sul territorio e quindi è stato valorizzato l'esperienza di un centro di formazione professionale che ci sta aiutando a creare un ponte con le realtà economiche produttive del territorio molti giovani grazie a questa collaborazione escono dalla scuola e trovano direttamente un'opportunità di lavoro sul territorio e poi abbiamo cercato di premiare anche quei giovani talentuosi quindi abbiamo premiato un musicista direttore di coro di successo che mettono tanta passione e tanto impegno nello studio e poi questa loro esperienza questa loro capacità riescono ancora nonostante gli impegni internazionali a riportarla sul territorio si chiama Under the Bridge la nuova collettiva inaugurata giovedì 17 novembre e che fino al 15 gennaio abiterà gli spazi del teatro Binarosette di Monza diventando una mostra diffusa che rimarrà in dialogo con la vita e l'attività del teatro stesso curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini l'esposizione raccoglie le opere di oltre 50 artisti di età formazione e personalità molto diverse che hanno proposto la loro visione rispetto a un tema storicamente ricco di riflessione come il ponte stavolta però la prospettiva è ribaltata non il ponte visto dall'alto come mezzo di unione di collegamento come un tratto da attraversare per ricongiungersi ma il ponte visto dal basso immaginando tutto ciò che si nasconde al di sotto di questo uno spazio spesso oscurato dall'ombra e che invece nasconde un universo di significati identità e simbologie con l'Avando Fettolini che ha curato con me questa mostra ogni tanto amiamo lanciare agli artisti degli elementi di riflessione c'è chiudegli di interpretare con la loro opera un tema molto spesso un tema inusuale l'anno scorso avevamo chiesto ad esempio di interpretare il tema dei vizi capitali scegliendo un vizio e raccontandolo con la propria opera quest'anno abbiamo scelto un punto di vista sul ponte completamente diverso dal consueto cioè non il ponte come congiunzione come passaggio ma il ponte visto da sotto under the bridge quindi sotto il ponte dove ciascuno può trovare quello che crede perché l'iconografia più comune vuole che sotto il ponte ci sia chi non ha un tetto e quindi andare a vivere sotto i ponti spesso ha un'accezione tragica negativa ma non è detto perché invece moltissimi artisti hanno scelto una via diversa di meditazione di scoperta di rifugio di nascondiglio di fantasia ognuno ha trovato qualcosa sotto il proprio ponte e 57 opere raccontano proprio questo grazie a tutti Grazie a tutti.